Ciao ragazzi, allora nel video di oggi risolviamo questa struttura isostatica e presenta qualche caso di interesse, quindi svolgiamola insieme. Allora, prima di tutto verifichiamo che il numero di gradi di libertà coincida effettivamente con il numero delle moltiplicità, no? Partiamo dai gradi di libertà, la struttura è composta da 1, 2, 3 e 4 corpi, ogni corpo nel piano a 3 gradi di libertà perché può compiere uno spostamento orizzontale, verticale, una rotazione intorno a un'asse perpendicolare al piano, quindi 3 gradi di libertà per 4 corpi abbiamo 3 per 4 che è 12. Per quanto riguarda invece le molteplicità partiamo dalla cerniera in A, no? Vedete che la cerniera in A è sia una cerniera esterna perché collega tutto il corpo a terra e quindi una molteplicità pari a 2, ma di fatto è anche una cerniera interna perché collega due corpi tra loro. Allora la molteplicità di questa cerniera è 4, no? Perché per una cerniera interna con collegamento a terra la molteplicità è 2N dove N è il numero delle aste che sta le cerniera collegano, quindi nel nostro caso 2 per 2, 4. Poi che cosa abbiamo? Le cerniere in E, D, C e B sono delle normalissime cerniere, questa esterna, questa interna di molteplicità quindi pari a 2 e allora abbiamo quindi tutte le somme dei due, no? Quindi più 2 della cerniera in E più 2 della cerniera in D più 2 della cerniera in C più 2 della cerniera in B e 2 per 4, 8 più 4, 12. Allora vediamo che il numero delle molteplicità è uguale al numero dei gradi di libertà, quindi G di L è uguale a M e questa condizione quindi è verificata. Condizione, mi raccomando, necessaria affinché la struttura si esostatica, no? Adesso che negli esercizi che facciamo di solito. Altra cosa che dobbiamo vedere è che chiaramente i vincoli siano ben posti, no? Perché questa condizione da solo è necessaria ma non sufficiente, quindi vedete che dobbiamo andare a verificare utilizzando i teoremi delle catene cinematiche che non ci sia allineamento tra il centro di rotazione del corpo 1, il centro di rotazione del corpo 2 e il centro di rotazione relativo per ogni corpo, per ogni coppia di corpi e stesso discorso per il secondo teorema delle catene cinematiche, no? E comunque in questo caso potete ben vedere che le cerniere, che vincoli sono ben posti. Magari potete anche fare una verifica per non fare il video troppo lungo, io questa la salto, anche perché, ripeto, si vede fondamentalmente ad occhio. E dunque, poiché i vincoli sono ben posti e il numero di gradi di libertà è uguale al numero dei gradi e delle molteplicità, effettivamente la struttura è esostatica. A questo punto dobbiamo calcolare le reazioni vincolari. Io personalmente come calcolerei le reazioni vincolari? Cercherei di calcolarle in modo molto veloce, quindi tra virgolette ad occhio, e farei in questo modo. Vedete che in A e in B avevamo delle cerniere che sono allineate lungo l'asse orizzontale, no? Quindi se andate a disegnare dei segmenti che rappresentano le reazioni vincolari, non disegno i vettori perché ora determiniamo i versi graficamente, comunque vedete, le reazioni orizzontali dovranno essere uguali opposte e solo le reazioni verticali potranno costituire una coppia in grado di bilanciare il momento orario M. Se il momento M esterno è orario, per il bilanciamento la coppia deve produrre un momento anti-orario. Vedete che ruota in questo modo, no? Effetto manubrio della bicicletta, il che vuol dire che il vettore a sinistra deve avere il verso che va in giù e il vettore a destra è verso verso l'alto perché in questo modo la coppia vi fa ruotare in questo modo, no? Qui scende, qui sale, ecco che abbiamo la rotazione anti-oraria che contrasta il momento esterno, orario, meglio il momento anti-orario che contrasta il momento orario. E qual è il valore? È se il momento di una coppia è data dalla forza che costituisce, cioè la forza della coppia, nel senso che queste due devono essere uguali in una coppia, quindi il valore della forza E1, quindi abbiamo la forza per la distanza tra le rette che costituiscono, tra le rette su cui giacciono le forze che costituiscono la coppia, che nel nostro caso è 2L, quindi M uguale F per 2L. Noi dobbiamo trovare la forza, quindi il 2L lo togliamo da qua, lo mettiamo qua, la forza è il momento fratto la distanza tra le rette di applicazione delle forze. Il momento che queste due forze, che questa coppia deve produrre è M, e allora abbiamo semplicemente M fratto 2L e M fratto 2L. Vedete, abbiamo subito, sembra che ci stiamo mettendo tempo, ma in realtà è perché sto spiegando il ragionamento, e vedete abbiamo subito trovato le reazioni vincolari, queste verticali, e ora qual è il vantaggio? Che se andassimo a disegnare i diagrammi di corpo libero della struttura, vedete qui disegniamo i diagrammi di corpo libero, per ogni asta disegniamo, che è collegata tramite la cerniera, disegniamo i due segmentini, che fondamentalmente è come se rappresentassero un po' il modulo dei vettori, e in B riportiamo il valore che abbiamo già ottenuto. Ecco, a questo punto perché non ho riportato anche quello in A? Perché questo valore, chiamiamolo così dal punto di vista della cerniera esterna, non è quello che viene riportato direttamente anche sull'asta AE in A. Perché? Perché in A, vedete, le aste sono due, quindi questo M fratto 2L appartiene sia a quest'asta che a questa, quindi dovremmo fare l'equilibrio della cerniera. Però al momento lasciamo tutto così e vediamo se comunque riusciamo a fare dei ragionamenti che ci permettono di non andare a considerare l'equilibrio della cerniera. La prima cosa da notare è che le aste AE e AD sono delle aste che sono collegate alla struttura solo da cerniere e inoltre non hanno, non sono soggette a sollecitazioni esterne, quindi sono delle aste reticolari o BL, aste che si comportano come pendoli, qua dipende un po' come le volete chiamare, il succo è che hanno solo reazioni parallele all'asta stessa, ossia le reazioni interne saranno solo reazioni normali, no? Non ci saranno taglio e momento. Questo che vuol dire? Che sull'asta E le reazioni orizzontali devono essere nulle, perché se non fossero nulle sarebbero uguali opposte e produrrebbero un momento che farebbe ruotare l'asta, cosa impossibile. E sull'asta D questa cosa che implica che la risultante di questi due vettori deve essere diretta lungo l'asta o in questo modo o al contrario, insomma, però la somma di questi due vettori dovrà produrre una risultante che agisce lungo l'asta. Andando avanti che possiamo vedere, che qui abbiamo un M fratto 2L, qui, ah, chiaramente se questa in E è nulla, è nulla anche quest'altra, perché sulle cerniere interne le forze devono essere uguali opposte, no? Quindi questa è un'unica cerniera che collegava il corpo in E, quando le unite le forze devono essere uguali opposte, se qui la reazione orizzontale è nulla, deve essere nulla anche qui. Allora questa possiamo iniziare a cancellarla. Andando sul corpo CB abbiamo una forza che va verso l'alto e allora questa deve essere uguale opposta e deve andare verso il basso. Vedete, questa è un M fratto 2L. Se questa va verso il basso, questa che è uguale opposta, perché della cerniera interna deve andare verso l'alto. Abbiamo un M fratto 2L. E adesso che succede? Se ci mettessimo in DI e facessimo l'equilibrio dei momenti, vedete che l'M fratto 2L produce una rotazione anti-oraria. La reazione orizzontale in DI non produce momento, la reazione verticale in DI è tantomeno quella orizzontale, stessa cosa per l'orizzontale in C. L'unico altro momento viene prodotto dalla reazione in E, che deve produrre dunque un momento uguale opposto a questo. Dato che il momento è forza per braccio e le due forze hanno lo stesso braccio, affinché i momenti siano uguali, anche le forze devono essere uguali, no? E dunque questo è sempre un M fratto 2L. Ora, se questo M fratto 2L e questo M fratto 2L che si sommano tra loro, l'unica altra forza verticale deve andare a compensare la somma di questi due e quindi andrà verso il basso e sarà M fratto 2L più M fratto 2L che fa M fratto L, no? Perché un mezzo più un mezzo fa 1, quindi M fratto L. E poi, detto ciò, cos'altro possiamo dire? Che se questo è un M fratto 2L verso l'alto, anche questa deve essere un M fratto 2L ma verso il basso, quindi questo è un M fratto 2L in giù e in A abbiamo il solito M fratto 2L però verso l'alto. Resta da capire che succede dal punto di vista delle forze orizzontali. Per farlo potremmo o metterci in C e dunque andare a calcolare l'equilibrio dei momenti, oppure fare un ragionamento un po' più simpatico, nel senso che noi abbiamo detto che l'asta AD è un'asta reticolare, no? Quindi la reazione risultante di queste due deve essere diretta lungo l'asta e chiaramente questa in D deve essere uguale opposta. Ora se disegnassimo questo triangolo vedete che quest'asta ha una dimensione verticale pari ad L e una dimensione orizzontale pari a L mezzi, ossia tra la dimensione verticale e quella orizzontale c'è un rapporto di 1 a 2. Stesso rapporto allora deve vivere anche tra i vettori la cui risultante deve avere la stessa direzione dell'asta, no? Perché appunto direzione di asta e direzione dei vettori e direzione della reazione vincolare deve essere la stessa, in quanto l'asta è reticolare, dobbiamo avere solo la normale. Dunque se questo è M fratto L, questo deve essere la metà e dunque un M fratto 2L. E qual è il verso? Beh di certo il verso non può essere questo verso destra perché se lo disegnassimo verso destra vedete che la risultante con la regola del parallelogramma se ne va in direzione perpendicolare all'asta, cosa che non è possibile, il che vuol dire che il verso corretto è questo e come dicevamo questo è un M fratto 2L. Allora le direzioni sull'asta, le forze sull'asta devono essere uguali opposte, questo è un M fratto L verso l'alto, questo è un M fratto 2L perché è uguale opposta all'orizzontale che però va verso destra, infatti vedete che anche in questo caso sommando il vettore verticale e quello orizzontale la risultante è diretta lungo l'asta. Qui abbiamo un M fratto L verso il basso e poi un M fratto 2L verso sinistra. Ora questa deve anche essere uguale opposta a questa perché l'asta EC e DC deve essere equilibrata, dunque M fratto 2L, questa allora è un M fratto 2L e questo ancora per l'equilibrio sempre orizzontale è un M fratto 2L. E vedete in questo modo abbiamo calcolato tutte le forze che agiscono, tutte le reazioni che agiscono sulle aste. Ecco magari giusto per rendere il disegno un po' più chiaro sposto queste. E una volta che abbiamo trovato le reazioni vincolari, ecco vedete le abbiamo trovate per via grafica, possiamo andare a calcolare le caratteristiche delle sollecitazioni, quindi andare a vedere come sono sollecitate internamente queste aste. Senza che magari, o forse sì, dai ricopio questo disegno, quindi scrivo che in totale abbiamo ottenuto, facciamo così, facciamo così, ecco. E cancelliamo le reazioni che non ci servono come questa e questa. Le altre, facciamo così, le coloriamo in nero. Vedete magari anche voi se volete rifare i disegni, in maniera che ce li avete anche voi più o meno ordinati, diciamo così. Adesso lo facciamo sempre in nero. Ecco, sull'asta AD, dato che sappiamo che c'è solo una normale, potrebbe convenire direttamente seguire la somma di questi due vettori, la cui risultante sappiamo che è lungo l'asta e la somma la possiamo fare direttamente con Pitagora, no? Allora, sposto momentaneamente questi. Dobbiamo sommare, come dicevamo, questi due vettori. Il teorema di Pitagora ci dice che è la risultante, che sarà diretta in questo modo, l'abbiamo visto prima, no? Perché se mettiamo insieme questi due vettori, la risultante è chiaramente diretta così, vedete? E quanto vale la risultante? Il teorema di Pitagora dobbiamo fare la radice quadrata dei due cateti, della somma dei due cateti al quadrato, no? Quindi m fratto l al quadrato più m fratto 2l al quadrato. E allora che cosa esce? Esce m quadro fratto l quadro più m quadro fratto 4l quadro, minimo comune multiplo 4l quadro, 4 più una 5 radice quadrata di 5m quadro fratto 4l quadro. Svolgiamo le radici radical 5 mezzi m fratto l. E questa è la risultante, radical 5 mezzi di m fratto l. Ovviamente sotto, ecco magari questo calcolo qui, facciamo così, ve lo lascio, perché potrebbe tornarvi utile, anche se è stato fatto molto velocemente. Sotto chiaramente sarà uguale opposta, quindi abbiamo un radical 5 mezzi m fratto l. Ecco adesso per calcolare le caratteristiche della solicitazione dobbiamo utilizzare dei pezzettini che parametrizzano le aste fondamentalmente. Allora qui mettiamo un pezzettino diretto in questo modo, qui lo mettiamo così, mettiamo un pezzettino in E che ci permette di studiare quello che succede all'interno del tratto ED, un pezzettino in C che ci permette di capire quello che succede nel tratto CD e poi, non so, mettiamo un pezzettino sempre in C qui che ci permette di capire quello che succede nel tratto CB. Detto ciò, possiamo calcolare le reazioni, le caratteristiche della solicitazione, quindi studiamo il primo tratto, il tratto, partiamo dal tratto, non so, AE, ad esempio, quindi facciamo così, ve lo scrivo, determiniamo le CDS con i pezzettini indicati in figura, quindi abbiamo il tratto AE. Sul tratto AE che cosa agisce? Abbiamo detto che è un'asta reticolare, quindi è in compressione o in trazione, si vede che in questo caso è in compressione perché le forze stanno comprimendo l'asta, quindi senza fare neanche il disegno, diciamo direttamente che N è uguale a meno M fratto 2L, perché ricordiamo che la compressione vuol dire che la normale è negativa, no? E poi T è uguale a 0 ed M è uguale a 0 perché appunto l'asta è reticolare. Stesso discorso, possiamo farlo subito anche per l'asta AD. Per l'asta D possiamo subito scrivere che N, questa volta è positivo perché vedete l'asta in trazione viene tirata, radica al 5 mezzi, M su L positivo, e poi sappiamo che T è uguale a 0, M è uguale a 0 per lo stesso motivo di prima. Studiamo ora il tratto ED, quindi sul tratto ED che cosa abbiamo? Disegniamo il tratto, disegniamo così, tagliato, no? Quello che stiamo disegnando è quel pezzettino verde che è un po' più grande, quindi abbiamo l'M fratto 2L verso l'alto, disegniamo il concio di riferimento, prendiamo la parte sinistra perché siamo a sinistra del tratto, fibre tese che mi diranno dove sto scegliendo il momento positivo perché il tratteggio mi dice dove io ipotizzo che il momento sia positivo, diciamo così, non è quello che succede nella realtà, e dunque N uguale a 0 perché non abbiamo forze normali alle fibre che sono i trattini. Il taglio è M fratto 2L, positivo perché concorde con la freccettina del concio che va verso l'alto, non abbiamo momenti esterni però abbiamo il taglio, dunque il momento è l'integrale del taglio, a sinistra del concio c'è concordanza disegno, quindi M fratto 2LZ perché facciamo l'integrale del taglio in DZ, il momento in E è uguale al momento in 0 che è 0, il momento in D è uguale al momento in L mezzi perché la lunghezza del tratto è D e L mezzi e dunque otteniamo M fratto 2L per L mezzi e quindi otteniamo M quarti. Tratto è D, l'abbiamo studiato, andiamo a studiare il tratto CD. quindi studiamo il tratto CD, abbiamo la normale che è M fratto 2L, il taglio va verso l'alto quindi M fratto 2L, poi questa ha anche un M fratto 2L, disegniamo di nuovo il concio, le fibre, il tratteggio sempre ipotizzato sotto, questa volta siamo a destra, quindi N è uguale a M fratto 2L positivo, il taglio è uguale a meno M fratto 2L perché va in verso opposto al concio, il momento è l'integrale del taglio ma cambiato disegno perché stiamo usando la parte destra del concio, quindi M fratto 2LZ, allora il momento in C è uguale al momento, stiamo studiando il tratto CD, quindi il momento in C è il momento in 0 perché il punto iniziale del tratto che è 0, il momento in D è uguale al momento in L mezzi e anche qui allora otteniamo M quarti, come giusto che sia perché il grafico del momento è continuo quindi si raccorda nel punto D. Questo l'abbiamo finito, non resta che studiare l'ultimo tratto che è il tratto CB, quindi tratto CB, ecco qua, disegniamo il concio, abbiamo le forze, le forze che sono M fratto 2L verso il basso, M fratto 2L verso sinistra, quindi questo è un M fratto 2L, questo è un M fratto 2L, a questo punto dato che dobbiamo studiare quello che succede lungo l'asta dobbiamo scomporre queste forze, allora vedete che quest'asta, ve la faccio vedere qui dove ci sono le misure, questo L, questo L vuol dire che quest'asta è inclinata a 45 gradi, a 45 gradi come si scompone il vettore, sempre con seno e coseno, ma seno e coseno sono uguali, valgono radica al 2 mezzi a 45 gradi, dunque la scomposizione è molto semplice perché abbiamo che questo orizzontale viene scomposta in questo modo e ognuna di queste freccettine M fratto 2L radical 2 mezzi, anche questa M fratto 2L radical 2 mezzi. Sesso discorso per questa che è, facciamo così, sposto questo qua, questo è un M fratto 2L radical 2 mezzi e poi abbiamo questa che è M fratto 2L radical 2 mezzi, chiaramente dobbiamo scomporre lungo l'asta. Allora qui che vediamo che a seguito della scomposizione questa e questa vanno in sottrazione perché, vedete, sono uguali opposte, quindi non abbiamo più nulla dal punto di vista normale, quindi parallelo alla trave. Queste due si sommano, hanno lo stesso verso, quindi effettivamente un'addizione dal punto di vista matematico, e quanto vale? M fratto 2L radical 2 mezzi più M fratto 2L radical 2 mezzi esce M fratto 2L radical 2, no? Perché è come se uno dei due sotto un mezzo più un mezzo fa uno. Allora abbiamo M fratto 2L radical 2. Disegniamo il concetto, decido sempre di mettere le fibre all'interno in modo che c'è continuità con tutto il concetto che abbiamo utilizzato. Siamo sulla parte sinistra del concetto, vediamo che la normale è 0, il taglio è M fratto 2L radical 2, cambiato disegno perché va in verso opposto al concetto. Il momento invece M fratto 2L radical Z, Z perché dobbiamo fare sempre l'integrale. Siamo a sinistra, quindi c'è concordanza di segno, vuol dire che è negativo. E da qui allora il momento in C, che è il punto iniziale, il momento in 0 che è 0, perché sostituite 0 a Z, chiaramente. E poi il momento in B è uguale al momento alla fine dell'asta. Ora, l'asta è inclinata a 45 gradi, quindi è come se fosse la diagonale di un quadrato di lato L. La lunghezza della diagonale di un quadrato è radical 2 volte il lato e quindi il tratto CB è lungo radical 2L. Sostituendo radical 2L abbiamo meno M fratto 2L. Radical 2 per radical 2L fa 2L, perché radical 2 per radical 2 è come se fosse radical 2 al quadrato che si leva, quindi 2L. E 2L e 2L si semplificano, otteniamo il meno M. Benissimo. Detto ciò, abbiamo finito, non ci resta che disegnare i grafici. Per disegnare i grafici mi conviene, per non rifare i disegni da capo, utilizzo questa struttura qui. Prendo questa, dove di fatto non dovrebbero esserci le cerniere, ora magari ce le tolgo un attimo, diciamo così, almeno ci sono anche già le lettere, e vado a unire i pezzetti. Questo lo tolgo, questo lo tolgo, questo lo tolgo, questo lo tolgo, questo lo sta e questa si ricongiungono qui, questa sta qui, questa sta qui, questa sta qua, questa sta qua. E già che ci sono, ne faccio altre due, perché così mi trovo anche già il grafico pronto per taglio e momento, no? Facciamo in colla, qui andremo a disegnare il taglio, sperando che ci entri, qui andremo a disegnare il momento, ok? Quindi, grafici, diciamo che qui facciamo il grafico della normale, dobbiamo andare a vedere che cosa abbiamo ottenuto sui vari tratti. Allora, la normale sul tratto è uscita negativa ed è M fratto 2L, no? Quindi meno M fratto 2L. Il negativo, non so, decidiamo di metterlo all'interno, qui. Dico decidiamo perché di fatto potete sceglierlo un po' come vi pare, l'importante è che ricordate di inserire il segno dentro. Facciamo così. Dunque abbiamo detto che è negativa, mettiamo il meno e disegniamo un po' di gambitura per meglio vedere il grafico. Poi, questo è il tratto AE. Sul tratto AD la normale invece è uscita positiva, radica al 5 mezzi, M su L. Ecco, forse conveniva chiaramente farlo al contrario, quindi papapam. Vabbè, voi potete anche lasciarlo così. Io che posso cancellare, giusto per farvelo vedere meglio, lo disegno dall'altra parte, quindi metto il negativo fuori, ma ripeto, ai fini della correttezza non cambia assolutamente nulla. Questo abbiamo detto che è M fratto 2L, giusto? E quest'altro abbiamo detto che è uscito, radica al 5 mezzi. Ora, radice di 5 è 2 virgola qualcosa, che diviso 2 fa 1 virgola qualcosa, quindi un valore più grande chiaramente di un mezzo. quindi lo disegniamo su quest'asta, valore un po' più grande, facciamo così, lo mettiamo di qua. Ecco qua. Di nuovo non dimenticate il segno, questo è più. Disegniamo sempre un po' di gambitura all'interno. Abbiamo detto che è un radica al 5 mezzi, M su L. Poi, sul tratto ED, la normale, vedete, è 0. Sul tratto CD, invece, è un M fratto 2L positivo. M fratto 2L positivo vuol dire che siamo sotto. Eccoci qua. M fratto 2L. Questo lo sposto un po' più giù. Ho dimenticato di mettere il segno che è negativo. che è positivo, scusate. Quindi abbiamo detto M fratto 2L positivo, giusto? Sì. Ecco, questa è la scomodità di fare gli esercizi direttamente sull'iPad, perché devo fare sopra e sotto, sopra e sotto, mille volte. Però va bene. E poi sul tratto CB, invece, non abbiamo niente. Vedete, la normale è 0. Andiamo a vedere a questo punto il taglio. Il taglio sul tratto, chiaramente, a E ed a D, sappiamo che 0, erano aste reticolari e lo sono tuttora. Sul tratto ED il taglio è positivo. Vale M fratto 2L. Vale M fratto 2L. Scegliamo di mettere il positivo. Vediamo già gli altri, ma sul tratto CD questo è negativo, questo è negativo. Quindi qui otterremo un valore negativo, qui otterriamo negativo, mettiamo il positivo fuori, ad esempio. Va benissimo. Mettiamo il positivo fuori sul tratto CD, sul tratto ED, M fratto 2L. positivo. Chiaramente, ripeto, non vi cambia niente dove decidete di fare i disegni. L'importante è che inseriate il segno dentro, diciamo. Quindi questo è un M fratto 2L. Poi sul tratto CD il taglio, vedete, è negativo sempre M fratto 2L. La sovrapposizione mi esce, piccolina, però non fa nulla. Mi esce fuori un triangolo, non si sa perché. Questo è negativo, sempre un M fratto 2L. Poi sul tratto CB è meno M fratto 2L per radical 2, quindi un valore più grande dei precedenti. Il disegno chiaramente deve essere perpendicolare all'asta. Lo disegniamo così, anche se non è perfettamente perpendicolare. L'importante è che sembri perpendicolare, insomma. Dovrebbe esserlo. Se meglio lo fate, meglio è, diciamo così. Questo è sempre negativo. Poi mettiamo la solita cambiatura. E questo, dunque, abbiamo detto che vale M fratto 2L radical 2. M fratto 2L radical 2. E questo è il grafico del taglio. L'abbiamo scritto, lo scriviamo ora. Questo è il taglio. Magari in momento lo butto un pochino più giù. Vediamo, male che va, lo rispostiamo. Ora, mentre per taglio e momento, chiaramente, dove mettiamo le fibre tese, dove c'è il positivo e il negativo non conta nulla, il momento deve essere disegnato con la convenzione delle fibre tese, no? Quindi noi abbiamo ipotizzato che le fibre tese, per i conci che abbiamo utilizzato, fossero disposte in questo modo. Non ricordo sul tratto verticale, ma tanto poco importa, diciamo così, perché tanto è nasta reticolare. Allora lo metto da questa parte. Quindi il momento su quel tratto non c'è. Allora, sul tratto E e sul tratto AD, su questi due tratti, il momento è nullo, non dobbiamo disegnare nulla. Poi andiamo a vedere che succede sul tratto AD. Sul tratto AD il momento va da 0 a M quarti, un valore positivo che quindi si trova dalla parte delle fibre tese. Le fibre tese le abbiamo ipotizzate sotto. Allora, vedete, questo vuol dire che anche nella realtà le fibre tese della trave si trovano sotto, perché nella realtà le fibre tese della trave si trovano dalla parte dove giace il grafico del momento, no? Noi abbiamo ipotizzato che le fibre tese fossero sotto, il grafico è uscito sotto, vuol dire che effettivamente le fibre tese stanno sotto. Se il grafico fosse uscito sopra, voleva dire che le fibre tese in realtà si trovavano sopra. Poi, sul tratto CD, in C è 0, in D è M quarti. Ah, chiaramente l'ho disegnato lineare, perché se il taglio è costante e il momento è lineare, lo vediamo anche dal fatto che il momento dipende linearmente da Z, no? Se ci fosse stato Z quadro era una parabola. Detto ciò, comunque anche qui andiamo da 0 M quarti, andiamo sempre come una retta perché compare la Z. E poi l'ultimo tratto che ci manca è il tratto CB. Sul tratto CB che cosa succede? Che il momento va da 0 a meno M, quindi un valore negativo che va opposto rispetto alle fibre tese. È il doppio degli altri a livello di valore, quindi esce un po' fuori, ma non fa niente. Sempre lineare, eccolo qua, questo, chiaramente M. E dunque abbiamo risolto la nostra struttura, abbiamo anche disegnati grafici. L'ultima verifica che potete fare è quella della concordanza disegno-taglio-momento. Se ruotate in senso chiaramente orario, vedete, momento positivo, taglio positivo, il momento cresce, perché il taglio è la derivata del momento, quindi derivata positiva, funzione crescente. Taglio negativo, il momento decresce, taglio negativo, il momento decresce. E questo è quanto. Ecco, al massimo, non so, possiamo un attimo rivedere il concetto che abbiamo detto proprio all'inizio, quindi molteplicità dei vincoli interni, facciamo così, molte, facciamo un nota bene, oppure un nota. Parliamo un po' della molteplicità dei vincoli, no? In che senso? Nel senso che quando ad esempio un carrello è collegato ad n aste interne, quindi questa è n, e al tempo stesso è collegato anche a terra, qual è la molteplicità di questo carrello? La molteplicità di questo carrello è dato da 2n-1, ossia 2 per il numero delle aste a cui è collegato il carrello, meno 1. E questo, quindi, fondamentalmente l'abbiamo visto. Che altro possiamo vedere come vincolo interno? Magari anche la cerniera, sebbene l'abbiamo già vista in questo esercizio. quindi questi di nuovo n corpi. In questo caso la molteplicità, l'abbiamo detto all'inizio, è data da 2n, ossia da 2 per il numero dei corpi che vengono collegati tra loro. Un altro caso che vi può capitare, ad esempio, è il pattino glifo, insomma. Facciamo così. Come lo disegniamo? Lo disegniamo con le rotelline qui. Mi raccomando, collegato a terra, perché stiamo vedendo i vincoli interni collegati a terra. Facciamo così. Vincoli interni collegati a terra. Terra. In questo caso, ipotizzando sempre le n aste, la molteplicità di questo vincolo è 3n-1. Perché il pattino, ovviamente, vi permette il solo scorrimento orizzontale, va a bloccare sia la rotazione e va a bloccare anche una traslazione. Ecco, se il pattino, oltre a collegare a terra la struttura, funge anche da vincolo interno, diciamo così, la sua molteplicità è data da 3n-1. Ecco, questa è giusto una nota, visto che questo esercizio ci ha permesso di parlarne. Questo. Io spero sia stato tutto chiaro. Se non lo è stato, scrivetemi o qui su YouTube o su Instagram. Le slide le trovate nel link in descrizione. Su Instagram ogni tanto pubblico anche dei reel molto brevi, quindi durata un minuto, in cui magari faccio un po' di specifiche relative a degli esercizi o casistiche particolari. E questo. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!